Dunque per un totale di 187,77 e in questo momento sono in prima posizione, sono già scesi su ghiaccio Megan Duamel, Derek Radford, Narumi Takashi e Mervyn Tram, i canadesi hanno 170,43, 164,42 per Takashi, Tram. Su ghiaccio i cinesi, Dan Zhang, Ao Zhang, sono terzi dopo lo show program. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Buono sollevamento, gruppo 3. Buono sollevamento, gruppo 3. Buono sollevamento, gruppo 3. Comune sollevamento, gruppo 3. Grazie. Salto franciato, enorme, bellissimo. Salto franciato, enorme, bellissimo. Sui passi, devo metterla giù veloce. Aoi è stanco, non si scelte. L'ultimo lift non è andato niente bene, era anzi molto pericoloso. E avranno una penalità, peccato per quell'ultimo lift. Guarda che Aoi si tocca la spalla. C'è sicuramente qualche problema per lui. Tra l'altro lui aveva avuto problemi proprio l'anno scorso, perché avevano saltato la stagione. Vedo che lei va un po' a rincorarlo. Mi è sembrato, come hai detto tu, un po' stanca e ne è venuta meno forse la parte proprio espressiva di questo programma. Esatto, li avevamo così trovati migliorati nel corto, non altrettanto nel libero, direi. Eh sì, lo state vedendo nel punteggio. 119,11 per il Fusketing, con 61,04 per i Tecnico Elements, ma la parte espressiva 58,07. Davvero, pensate che Cavaluti e Smirno fanno avuto 64,63. Quindi davvero diverso questo punteggio per loro e gli scivolano alle spalle.